La nostra Madre Celeste ovviamente ci ha condotto lungo il fiume in un certo modo, in modo molto molto bello. Sono venuta perché è una cosa che conosco da tanti anni, era tanti anni che non venivo e quest'anno sono tornata. La nostra Madre Celeste ovviamente ci ha condotto la mia scolta, la mia scolta di sorella mi. Bene, finalmente è ripresa, dopo questi anni di pandemia siamo riusciti a rivedere una festa che dura da centinaia di anni a Roma, è molto sentita questa festa dai Romani, è molto bella perché è una festa sempre tradizionale, è sempre la festa che dura da centinaia di anni, è sempre uguale, semplice però bellissima, per i Romani Trasteverini è sentita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!